Comunque non ti preoccupare, ci penso io per te Mi aiuti? Sì, 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 non ti preoccupare Dammi centomila lire Eh? Dammi centomila lire Centomila lire? Sì Ma che, sei matto? E che ce ne devi fare con centomila lire? Cioè, ho fatto una cosa Stavo sempre a pezzare lì quando stavo in galera Mi ero pure fatto un nodo da qualche parte Ah, ecco, la ho lasciato Ma di che si tratta, scusami? Che si tratta, mi vergogna dirtelo qua Dimmelo, se no i soldi non te li do, eh Ma ce l'hai stai centomila lire? Sì, sì, ecco, ecco, sei qua E allora te lo dico Venti, quattro Sì, venti, quattro Venti, quattro mesi che aspetto Una, due, non lo so Una casa da puntamento Sì Ma non puoi rimandare E come faccio a rimandare? Se ti dico che stavo sempre a pezzare là E poi i soldi, quanti venivi dai soldi? Eh, senti, non è utile che facciamo tante discussioni, Gettano Se me le devi dare queste centomila lire me le dai Me le svendo lì davanti come se mi stai a dare dieci milioni Allora, te le restituisco, arrivederci, grazie Ciao, grazie Ciao, ciao Ci vediamo, eh Ciao, Gettano